Un risultato positivo del bienio che abbiamo alle spalle, nel senso che abbiamo ridotto di quasi 700 milioni il disavanzo, abbiamo dimezzato il debito commerciale e soprattutto abbiamo ridotto da 170 a 90 giorni i tempi di pagamento, cosa molto importante per chi lavora per il comune e adesso si tratta nel terzo anno di fare un salto ulteriore di qualità sia nella spesa corrente sia in un piano straordinario di investimenti, da un lato ulteriori 30 milioni per la gestione quotidiana ma soprattutto circa 80 milioni di investimenti straordinari che dedicheremo almeno 15 milioni agli ERP, alle case popolari, al verde, alle strade immettendo quasi 20 milioni e tante altre opere di assestamento di tipo sportivo, di tipo sociale. Nel bilancio abbiamo previsto di ristorare i cittadini per i costi di aumento energetico che ci sono stati lo scorso anno, abbiamo rispettato tutti gli obiettivi previsti dal patto per Napoli, costituendo la società per la riscossione che ha iniziato la sua attività, la valorizzazione del patrimonio con l'accordo InVimit e l'assegnazione delle prime sei unità immobiliari e soprattutto siamo riusciti anche alle transazioni economiche con i nostri fornitori, diciamo che si esce da una situazione di emergenza e ci saranno più risorse disponibili per i servizi.